Ampliamento degli orari e delle giornate d'apertura, nuovi ambulatori, nuovo personale, così la direzione dell'Asla VCO sta migliorando i tempi delle liste d'attesa. E seppure ancora resti qualche criticità, i risultati ci sono e la situazione è in netto miglioramento. Dal 1 ottobre, nuovi ambulatori di neurologia presso gli ospedali di Domodosso e Leverbania, per esami ecodopler, tronchi sovraortici. I tempi in meno di un mese si sono ridotti da 140 a 49 giorni di attesa. Peraltro, da ieri l'ambulatorio del San Biagio conta un giorno di apertura aggiuntivo. Altra novità è che il servizio di endoscopia, presso il quale vengono eseguite gastro e colonoscopie, sarà aperto anche il sabato. Dal 1 ottobre è tornata la presenza del medico tutti e cinque i giorni di apertura nei tre ambulatori di diabetologia di Domodosso, Leverbania e Leverbania. La scomparsa del responsabile del servizio, dottor Saglietti, aveva portato a una carenza di personale nei mesi passati, che è stata colmata grazie all'arrivo di due nuovi medici che si affiancano al dottor Placentino. L'energica azione sulle liste d'attesa è stata favorita anche da risorse stanziate alle asle della regione ed è arrivata dopo che la nostra azienda sanitaria aveva fatto segnare in agosto un numero importante di prestazioni al di fuori degli standard piemontesi, che sono di 30 giorni per le visite e di 60 per le prestazioni ambulatoriali. Un terreno che si sta dunque recuperando, sebbene restino delle criticità in particolare legate alle malattie croniche, ad esempio sulle visite cardiologiche e geriatriche, alle quali sta lavorando un gruppo dedicato. Dall'azienda sanitaria ricordano che attraverso il nostro CUP è possibile prenotare presso un ampio ventaglio di strutture, gli ospedali di Domodosso, Leverbania e Leverbania, il poliambulatorio di Villa Caramora dell'Istituto Oxologico Italiano a Leverbania, le strutture di Miazzina e Gravellona del gruppo Garofalo, alcune prestazioni a Omegna gestite direttamente dal COC, una scelta che spesso consente di accorciare le attese magari facendo solo qualche chilometro.